312 mila euro e la montare della multa a cui ACA, l'azienda consortile acquedottistica, è stata condannata dall'autorità garante per la concorrenza. Tutto parte dalla segnalazione di un'ultraottantenne a cui non ridavano i conti della bolletta dell'acqua. Sono quattro gli aspetti contestati dall'autorità. Riguardano l'attivazione automatica della copertura assicurativa per le perdite occulte di acqua, la scarsa trasparenza, l'indifferenza verso i consumatori che non avrebbero voluto attivare la polizza e la mancata informazione in caso di perdite occulte. L'ACA ha attivato in maniera unilaterale un'assicurazione per le perdite post-contatore per i cittadini con comunicazioni assolutamente, secondo l'autorità per il mercato, assolutamente non congrue e non hanno messo in grado i cittadini di poter decidere in tranquillità se aderire a questa che non era un'offerta. Era una decisione già presa. E poi il fatto di poter recedere solo attraverso un iter assolutamente farraginoso. Tale situazione, sostiene l'autorità, ha determinato nel corso degli anni l'accumulo di un arretrato notevole e conseguenti ritardi nella lavorazione delle stesse istanze e nelle risposte ai clienti. Sarebbe veramente increscioso se questi costi andassero a finire anche quelli in bolletta perché i cittadini pagherebbero due volte. Noi riteniamo che debbano pagare gli amministratori della società che hanno fatto un gravissimo errore che è stato appunto sanzionato dall'autorità.